Ho trovato lavoro grazie al contatto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Infatti durante l'ultimo anno di ragioneria la scuola ha dato la possibilità all'azienda di entrare nella scuola e di presentare se stessa, ma soprattutto ha dato la possibilità agli studenti di fare una simulazione di colloquio. Questa simulazione si è trasformata poi nell'opportunità di entrare all'interno dell'azienda e iniziare il mio percorso lavorativo. Quando ho finito l'università non sapevo cosa fare e ho deciso di fare il servizio civile. Questo mi ha permesso di conoscere un ambito lavorativo che prima non avevo mai considerato, il non-profit. Grazie a questa esperienza lavorativa ho conosciuto delle figure professionali come quelle del fundraiser e del progettista sociale, tanto che mi sono appassionata e ho deciso di intraprendere un percorso lavorativo proprio in quell'ambito. Lavorando all'interno di una cooperativa che si occupa di valorizzazione del patrimonio, sfrutto le mie conoscenze acquisite durante il master in comunicazione, dalla laurea in storia dell'arte e le lingue acquisite durante il liceo linguistico. Il mio impatto col mondo del lavoro è stato formativo ed entusiasmante. Formativo perché sinceramente durante il mio primo anno di lavoro ho imparato più cose che in cinque anni universitari. Entusiasmante perché mettermi alla prova in un contesto diverso come quello lavorativo mi ha fatto scoprire capacità che sinceramente non credevo di avere, come per esempio il lavoro in team, ho anche imparato a guidare un team e questo è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Una qualità utile per i giovani nel mondo del lavoro? Saper ascoltare. Consapevolezza. Versatilità. Intraprendenza. 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 Grazie a tutti.